Allora, Paradiddle con semi-minime alternate, Paradiddle in crome, semi-minime alternate con i piedi, quindi a 60 bpm andremo a suonare le semi-minime alternate con i piedi, quindi 1, 2, 1, 2, Match Grip e il Paradiddle in crome, partendo con la mano destra, pronti? 3, 2, 1 e Paradiddle, 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 Paradiddle 3, 2, 1, Paradiddle Ok? Perfetto 4, 3, 2, 1, Paradiddle